Buongiorno Ministro, prima di parlare di tutte le cose che sono successe in settimana, sono arrivati anche dei giocatori importanti. Ti chiedo come si arriva a questo esordio, tra l'altro contro una scuola che è stata la prima scuola che hai allenato da professionista. Ma intanto mi fa piacere ritrovare un ambiente, parto dall'ultima perché è sempre quella che mi ricordo meglio quando mi fate più domande. Per cui ritrovo un ambiente in cui sono affezionato, perché comunque sono stati i primi a darmi fiducia ad allenatore in prima. È un ambiente dove sono cresciuto, sono cresciuto insieme a loro e ho imparato a muovere i primi passi in questo mestiere. Per cui rivedo un ambiente in cui sono rimasto affezionato, ho moltissimi amici e sono sempre riconoscente per questa chance che mi hanno dato. Domani però, noi dobbiamo fare la idea di questo piccolo preambolo, dobbiamo andare là e portare questi colori nel modo migliore, in un campo difficile perché sappiamo che è una delle squadre soprattutto all'inizio più temibili. Questo non ne prendiamo atto, non ci deve impaurire, anzi ci deve stimolare. Sono considerazioni che si fanno perché si devono fare ma consci di sapere che dobbiamo giocarsi la nostra partita col piglio di una squadra che sa quello che vuole. È ovvio che, come dicevi tu, sono arrivati i ragazzi anche questa settimana e sono arrivati all'ultimo secondo. Per cui ci approcciamo con grande voglia di riscattare anche una partita bruttissima che abbiamo fatto sabato scorso, domenica scorsa, adesso non ricordo quando. Ci arriviamo sempre un po' in emergenza perché se quando lasci a casa i giocatori domani, stavo mettendo giù la lista dell'allenamento di domani, quelli che rimangono qua, come se lasci a casa Nasi, Beruato, Calabresi, Torregrossa, Rus, Caracciolo, chi dovrà arrivare perché magari sembra che qualcosa... Insomma, sono liste che comunque vengono a mancare, sono giocatori che vengono a mancare. Questo non significa non avere del potenziale, non significa, vuol dire, un pochino avere dei giocatori meno abituati a questo campionato che dovranno far vedere subito di che partita sono fatti. Massimo Pazzini. Ciao Ministro. Ora, nel fare quella lista ci hai già detto il nome di Rus, quindi mi hai già un po' risposto alla domanda che ti sto per fare, che è questa. Come prosegue l'inserimento dei nuovi, soprattutto quelli arrivati nella prima tornata, non mi riferisco a quelli dell'ultima ora, quindi Rus, Esteves, questi ragazzi qua? E appunto ti volevo chiedere anche di Torregrossa perché ti avevi detto di entrare nel gruppo la prossima settimana, invece ha anticipato di qualche giorno, mi sembra. Ma diciamo che è voluto allenarsi là da noi, non è rientrato ancora in gruppo, per cui il programma rispecchia quello che avevamo detto, ha cominciato a muoversi con palla, sempre con i lavori differenziati, magari qualche lavoro dove c'è intensità bassa li fa con noi, però rientrare in gruppo è un'altra cosa, rientrare in gruppo è dare qualche legnata, cercare di essere, insomma, di spingere. Lui ha ancora qualche giorno da verificare, perché di giorno in giorno lo verificheremo per vedere dove sarà la sua condizione, come saranno i suoi miglioramenti. Ovviamente sappiamo quanto importante sia per noi anche Ernesto, per cui, per quanto riguarda gli altri, Esteves ha cominciato a allenarsi questa settimana, ha fatto tre allenamenti, tre barra quattro allenamenti con la squadra, e Morutano uguale, però stanno cercando di mettere dentro il più possibile, non è semplice, non è semplice perché comunque siamo, come ho detto la settimana scorsa, siamo un cantiere sempre aperto e non bastano pochi allenamenti per formare una squadra, una squadra ha bisogno di un po' di tempo e dobbiamo in questo momento fare di necessità virtù, sapere che siamo comunque competitivi, sapendo che dovremmo fare però di necessità virtù in certe situazioni, facendo i conti con la condizione che è quella che è, cercando di calibrare chi gioca, chi entrerà anche per i cambi, perché molti non hanno ancora i 90 minuti. Siamo a lavorare col bilancino, però consci che dobbiamo comunque andare a far bene, perché abbiamo una partita brutta anche da riscattare e soprattutto inizia il nuovo campionato dove vogliamo farci trovare pronti. Michele Bufalino Anche io faccio doppietta con due domande, facciamo insomma sul mercato Tramoni, anche lui dovrebbe arrivare, crede che eventualmente lo porterà se ci saranno specialità oggi? Chiedo, e poi la seconda cosa è, visto che è positivo il fatto che si dica che siamo competitivi, perché poi anche gli ultimi arrivi sono giocatori sicuramente di qualità e di esperienza, Allora, la domanda che faccio è, cosa potrebbe mancare ancora per concludere a livello numerico, comunque a livello, per essere pienamente soddisfatti? Non mi ricordo già la prima. Non ce la faccio a rispondere, a parte gli scherzi, no, so che stanno concludendo questa operazione, non è ancora conclusa, per cui non posso contare su un giocatore che non si è ancora allenato con noi, per cui sono cose che hanno i suoi tempi, e io devo solo aspettare, devo concentrarmi sui giocatori che fino ad oggi si sono allenati e stanno cercando di dare il massimo per arrivare pronti a domani sera. e anche la vigilia di una partita non mi sembra neanche giusto dare chi, cosa manca, cosa non manca. Io ho detto, è ovvio che già noi dobbiamo avere la voglia, noi aspettiamo comunque che rientrino quelli che abbiamo, che sarebbero gli acquisti più grossi, poi la società penserà da qua fino alla fine agosto se fare qualcosa o meno. Andrea Cavacci. Io ti chiedo un giudizio su quelli che sono già arrivati, Calabresi, che però non potrà giocare, perché è squalificato, e Ionita, insomma. Allora, intanto sono arrivati due giocatori che conosco bene, uno tra l'altro l'ho anche allenato, per cui mi diventa ancora facile, però anche a differenza magari degli altri che sono arrivati nella settimana scorsa, sono giocatori che hanno già fatto i nostri campionati, per cui possono essere già pronti, anche dal punto di vista, conoscono un po' la sostanza, un po' quello che gli si chiede, cosa si chiede in un campionato così. Per cui, ovvio, questo facilita un po' le cose, sicuramente, perché poi, mentre alcuni non sai che riscontro avranno poi nel momento in cui si andranno in campo, nel momento in cui avranno delle difficoltà, perché poi hanno un percorso diverso loro, invece sono giocatori che vengono a completare un organico e vengono a commestire già loro, insomma, con un bel bagaglio. E questo per noi è una grandissima fortuna. Paolo Sardelli Buongiorno, mister. Buongiorno. Hai parlato prima, appunto, delle tante assenze che ci saranno domani. Quindi, diciamo, a livello di giocatori, tanto imbarazzo nella scelta, non dovresti averlo. Magari, vado più nello specifico, potresti avere più imbarazzo sullo schema di gioco, nel senso, si potrebbe vedere una difesa a tre, magari arretrando De Vitis sulla linea dei difensori? Sì, abbiamo lavorato, appunto, perché non sapevo che avrei avuto disposizione oggi per partire, no? Per cui ho lavorato su alcune cose che me le tengo buone, proprio in virtù di una partita che può cambiare anche nei 90 minuti. Per cui è una circostanza alla quale ho pensato e sulla quale abbiamo lavorato. Andrea Cosimi Sì, a tal proposito, mister, ci sarà spazio per Ionita? Ma Arturo arriva che è a posto, cioè nel senso che è un giocatore che tra l'altro conosce bene cosa chiedo, perché diciamo che le attitudini in quel ruolo non sono cambiate, da dove lo allenavo ad oggi. Per cui è ovvio che è un giocatore che si può dare subito grande sostanza. Giovanni Manetti, aspetta. Sì, è collegato a questa. Velocissimo. Cohen, come sta? Sì, è entrato anche lui dall'infortunio, si è aggregato la squadra e partirà con noi. Adesso devo ancora fare le convocazioni, però è un giocatore recuperato. Ma che è il giocatore che si viste? Se almeno... Faccio già le convocazioni. La prossima volta mi presento con le convocazioni. Comunque sta meglio. Sta meglio. Sono mi rappresentato, Pisa News. Piacere. Eh, vabbè, come è un mal di volo. Dicevo, nella partita di domani, nel preparare la formazione, emerge il fatto che manca completamente, per un motivo o per un altro, la difesa titolare dell'anno passato. Quindi è questo forse l'aspetto più difficile in preparazione della partita. Tanto è importante, perché poi è il reparto dove si ha più bisogno di lavorare, no? Per i sincronismi... Allora, io non ne volevo parlare, perché sembra sempre di piangere... A me non piace piangermi addosso per gli assenti, è che dovevo dirvi chi c'era, ve l'ho detto prima, altrimenti me lo chiedevate voi. Però è vero che è un reparto che deve trovare certi meccanismi e che ad oggi, soprattutto proprio in virtù anche delle assenze, qualche difficoltà, qualche meccanismo, lo dovremo trovare giocando. Questo non vuol dire che dobbiamo partire già pensando che le cose non vadano in un certo modo, anzi, dovremmo mettere ancora quell'attenzione in più per far sì che questi mari limiti di allenamenti in meno che abbiamo avuto non siano presenti nella gara. Ci sono altre domande? Facciamo l'ultima di Saverio e Guagagna. Allora, Saverio, Andrea e chiudiamo. Mister, un giudizio su questo campionato, chi sono secondo te le favorite e dove si può mettere il Pisa nella griglia? Allora, il Pisa lo metto sempre al primo posto, perché non dovrebbe essere così, perché ci stiamo lavorando. È ovvio che abbiamo un percorso un pochino più lungo degli altri, però ci arriviamo, ci arriviamo in come. E magari, ripeto, in questo momento invece bisogna fare di necessità virtù, per cui in questo momento si fa risultato con le maniche riboccate, senza piangersi addosso, andando in campo, sapendo che abbiamo delle difficoltà, ma le vogliamo superare sul campo, senza che questo lo si possa far vedere. L'ultimo, Andrea Cavaci. Mister, prima ti ho chiesto un giudizio, diciamo, sul Cittadella, che avevi lasciato il ricordo di Cittadella, ti chiedo invece una cosa su il Cittadella. che squadra affronteremo, perché è una squadra che l'anno scorso si è salvata tranquillamente, però è sempre una squadra, tra l'altro capoostico. A parte l'anno scorso, che credo, perché prima avesse centrato i play-off per sei anni consecutivi, con due finali, per cui è una squadra che ha cambiato pochissimo. Anche questo all'inizio ha un vantaggio, perché parte già con una quadratura, con dei sincronismi che sono liate. Per cui sappiamo che troviamo queste difficoltà. Noi dobbiamo solo tenere l'attenzione e andare in campo con personalità. Sappiamo che incontriamo, ripeto, una delle squadre che negli ultimi sei anni, forse è la squadra che è andata più ai play-off, per cui è sempre stata tra le prime. Tanto, in realtà, gli riconosciamo questo, ma questo a noi non deve turbare, anzi, ci deve fare stare lo stimolo per andare là e far bene. Grazie a tutti. Grazie, Ministro.